Ehi ragazzi, sono V. Il Relic mi sta uccidendo. L'unico modo per salvarmi è iscriversi al canale di Everett the White Spider. Fatelo, o vi mando la rassaca contro! Ehi ragazzi, sono V. Il Relic. Questo video è stato sponsorizzato da Eneba, un sito giovane ma con alle spalle già un punteggio altissimo su Traspilot. Più di 10.000 prodotti digitali in catalogo a prezzi davvero stracciati. Ma c'è di più. Al momento dell'acquisto usate il codice Everett e avrete un ulteriore sconto. Che aspettate?